A presto! Grazie a tutti. 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 Contatto. Grazie a tutti. 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 Capito? Ma non neanche, non è venuto. Hai i canali di scolo, eh? Siamo un po' più sotto l'aria molto. Ecco la via d'accesso. C'è un po' più in mezzo. Non so, ma non so, ma non so. Non so, ma non so, ma non so, ma non so! Non so, ma non so. Proprio è meglio. Proprio è meglio. Mantagno a terra! No, 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 no. Non avrei mai detto che mi dice di stare in una fogna. Non è male essere il preparo dalla proposta. Hai bengala? Tranquillo, ce li ho. Beh, Buck, adesso? Dobbiamo salire di sopra e confermare le corde. No, no, chi ti ha chiesto niente? Voglio sentire qualcuno di cui posso fidare. Sì, confermare le coordinate, lanciare il bengala, andarsene. Possiamo farcene. Da quanto tempo fate squadra? Irish e Rekker si conoscono da molto. Dunn era il caposquadra. Io sono nel gruppo da circa un anno. Cos'è successo, Dunn? Se l'è preso il mare. Oh, mi dispiace. Non lo so. Ci sono delle armi, Rekker. Sento delle voci. E i tecnici e alcuni soldati. Sento delle voci. Sì, sì, sì. Sì, sì. No Oh C'è un cavalcavia per l'hangar principale Su per le scale, venga Su per le scale, venga Cosa dici, Pak? Siamo vicini a uno degli hangar principali, vero? Non sei tu a comandare, Anna Che problematica Forza, ragazze, di qua Pensi di non poterti fidare di me? Che io sia una bugia? Non ti ho fatto nulla Esatto, Anna Non hai fatto proprio nulla per me Da dove arrivo io, la fiducia si guadagna Ciao 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 Arifarami! Avvaici! Non patruscare! Questiamo a finitra! Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Scusi! Grazie a tutti.